buongiorno a tutti benvenuti innanzitutto mi voglio presentare sono Giorgio Garzino e mi occupo di formazione per quanto riguarda il catalogo URMET. Vi do il benvenuto a questo ultimo webinar del 2020 dedicato a IOCIS con tutte le soluzioni smart e soprattutto le nuove integrazioni e funzionalità che stanno man mano aumentando. Vi ringrazio a nome di URMET per la fiducia e per la partecipazione a disponibilità che ci state come sempre accordando. Prima di iniziare alcune informazioni di servizio è un webinar interattivo quindi durante il webinar potrete anche porci delle domande purtroppo dato l'altro numero non è possibile fare la voce ma potete inviarcela e poi il team vi potrà rispondere. Per chi si è collegato da PC per fare le domande è sufficiente cliccare sulla dashboard quindi sulla freccia rossa in alto a destra, troverete la sezione domande lì potrete scrivere la domanda e inviarcela. Per chi invece si è collegato da dispositivo mobile quindi un tablet, uno smartphone è sufficiente cliccare sull'icona appunto interrogativo e anche lì allo stesso modo ci invierete la domanda. In base al numero di domande cercheremo di rispondere in diretta se no se sono magari risposte più articolate risponderemo comunque nei prossimi giorni. Durante anche il webinar verranno fatti dei semplici sondaggi a cui siete invitati a rispondere dando la soluzione o meglio la risposta che ritenete più opportuna, più corretta. Abbiamo messo anche a disposizione di questo webinar dei documenti quindi della documentazione tra cui la presentazione stessa quindi potrete magari rivedere con calma e la potete scaricare sempre per chi è collegato da pc, download, quindi la sezione documenti. Per quanto riguarda invece si è collegato da tablet premendo il tasto salva. Ultima informazione sempre di servizio è un webinar dal vivo e di conseguenza c'è anche un alto numero di partecipanti. Se ci fossero problemi di connessione di rete quindi magari siete tirati fuori dalla connessione è sufficiente cliccare nel link che avete ricevuto nell'email d'invito e nel promemoria e siete immediatamente reintrodotti a questo webinar di maniera molto molto semplice. A questo punto oltre a me Giorgio Grazzino vi presento il mio collega Mirko Lugli. Buongiorno Mirko. Ciao Giorgio buonasera a tutti mi presento sono consulente tecnico commerciale che fa parte della filiale dell'Emilia Romagna e seguo la zona di Modena e Reggio Emilia. Allora visto che ormai più o meno ci siamo quasi tutti direi Giorgio di lanciare il primo sondaggio. Siamo in tanti collegati? Più o meno 400 quasi. Non male non male dai. Posso dire che possiamo lanciare il primo sondaggio. Allora qua appunto come c'è scritto hai già utilizzato la domotica smart di YOKIS. Sotto vi trovate le quattro punto risposte che potete andare a selezionare. Sì utilizzo YOKIS esclusivamente la versione filare. Sì utilizzo YOKIS principalmente la versione radio. Sì utilizzo YOKIS sia filare che radio quindi entrambe le soluzioni oppure no non utilizzo YOKIS. Diciamo sì che YOKIS è come appunto che è questo il webinar webinar diciamo di YOKIS con un focus principale sul cronotermostato smart quindi lasciamo ancora qualche secondo per dare le risposte potete tranquillamente selezionare la risposta che fa al caso vostro quindi sono sì utilizzo la versione filare oppure quella via radio o entrambe le soluzioni oppure non utilizzo ancora al momento YOKIS quindi perché speriamo che dopo il webinar utilizzate il mondo YOKIS. Allora vediamo ok allora ecco qua le risposte sì utilizzo YOKIS diciamo che è quella un po' meno utilizzata per quanto riguarda il sistema filare mentre il sistema via radio buona una buona percentuale di risposta sì e qualcuno ancora non utilizzo YOKIS ma vedremo di fargli cambiare idea con con questo webinar. Allora adesso ti ridò la parola così se entri vai sul tecnico. Perfetto grazie Mirko perfetto ok questa sera allora il focus come ha detto giustamente Mirko sarà sulla termoregolazione e su alcune novità che non vi voglio ancora anticipare ma che pian piano vedremo insieme. Quindi facciamo prima un overview innanzitutto YOKIS cos'è e la risposta urmet per quanto riguarda la smart home quindi è un sistema che permette di regolare le tapparelle ok praticamente grazie a un modulino chiamato appunto modulo tapparelle ci permette di regolare e quindi renderci compatibili con le principali tapparelle automizzate a tre quattro fili. Permette di gestire che cosa anche l'illuminazione con un modulo relè come vedete oltretutto molto compatto possiamo gestire l'illuminazione potendo avere usufruire di un contatto passo passo impulsivo un temporizzato a seconda di quello che ci interessa che dobbiamo diciamo comandare. Per quanto riguarda l'illuminazione abbiamo anche disposizione a un modulino dimmer ok che quindi ci permette di dimmerare tutti quei carichi dimmerabili e dotato anche di temporizzazione quindi lo possiamo attivare per il tempo che ci interessa e oltretutto è possibile anche trasformare in contatto pulito nel caso in cui dobbiamo ancora effettuare lavori di manutenzione non abbiamo ancora messo collegato un cavo dimmerabile. Entriamo anche nell'ambito delle automazioni sia con un monitor, scusate, un modulo dedicato chiamato MAU, modulo automazione che è un modulino che se collegato ad un'automazione predisposta ci permette non solo di aprire e chiudere il cancello ma anche di rilevare lo stato quindi attraverso l'applicazione da remonto che poi vedremo potremmo vedere effettivamente lo stato di questa automazione ma possiamo anche utilizzare per le centraline più comuni un modulo relè. Il modulo relè è programmato in modalità impulsiva con una chiusura di un contatto di 0,5 secondo oltretutto anche privo di potenziale quindi la nostra libera scelta possiamo appunto comandare la nostra centralina. Il controllo può avvenire in locale attraverso i pulsanti filari quindi pulsanti locali oppure può avvenire attraverso telecomandi radio ma dove diamo anche dove si sfrutta appieno le potenzialità di IOKIS attraverso il controllo da SMART. Grazie a un dispositivo chiamato IOKIS Hub possiamo interagire direttamente con il nostro impianto SMART sia quando siamo in casa e anche magari da remoto. La termoregolazione è l'argomento principale di questa sera grazie all'uscita del cron-dermotato Thermarp vedremo che possiamo integrare anche tutta una serie di controlli e per ottimizzare altrimenti i consumi quindi un strumento estremamente valido oltre che compatto e easy quindi semplice a utilizzare. Anche per la termoregolazione possiamo sfruttare che cosa? Una piattaforma quella degli assistenti vocali quindi che ci permette di integrare non solo i classici modelli luci, tapparelle, automazioni ma anche i controlli vocali per la termoregolazione. L'integrazione però non si ferma qua in questo caso proprio novità anche di questo webinar, possiamo anche integrare dell'antintrusione con la nostra centrale Zeno di cui ne parleremo dopo, delle telecamere SMART e infine come vedremo dal centro un breve accenno sul work in progress del prossimo anno che sarebbe il controllo calico. Quindi come vedete c'è tante armi al proprio arco per dare una risposta alle principali richieste del nostro cliente. Perfetto. A questo punto prima di iniziare un rapido diciamo confronto tra quella che è la domotica standard tradizionale e quello che è gli office. Allora innanzitutto facciamo un raffronto proprio pin to pin. A livello di collegamento quando si fa un impianto tradizionale innanzitutto bisogna predisporlo in quanto c'è un bus dedicato e quindi normalmente quando effettuiamo una ristrutturazione dobbiamo anche prevedere le tracce nei muri per il passaggio del bus dedicato. Per quanto riguarda IOKIS invece possiamo sfruttare l'impianto esistente, per quanto riguarda la parte filare con un unico filo chiamato filo pilota oppure sfruttiamo appieno le potenzialità della gamma radio ibrida grazie al bus wireless quindi senza fili. Per quanto riguarda la programmazione della domotica tradizionale normalmente questo avviene come? Attraverso ponticelli, deep switch, un software dedicato quindi degli strumenti che dobbiamo avere sempre con noi. Per quanto riguarda invece IOKIS la programmazione innanzitutto è semplificata, la possiamo fare anche direttamente dal comando locale quindi collegando un pulsante al nostro modulino perché l'elettronica è intelligente oppure assistita quindi più veloce e semplificata attraverso un tablet con un'applicazione Android che ci permetta appunto di dialogare con questi moduli radio. Normalmente anche per quanto riguarda la domotica tradizionale dobbiamo prevedere che cosa? Un'alimentazione quindi un sistema dedicato quindi dobbiamo prevedere anche all'interno di un quadro elettrico un dispositivo che mi permetta di limitare il sistema. Per quanto riguarda IOKIS invece non necessitiamo assolutamente di alimentazioni dedicate. Tutti i nostri modulini IOKIS sono modulini che vengono alimentati direttamente dalla tensione di rete 230 volte quindi è sufficiente portare l'alimentazione che normalmente già presente in abitazione per sfruttare appena le potenzialità. Integrazione coi sistemi. Normalmente la domotica tradizionale dialoga con i sistemi proprietari quindi quelli della stesso brand. Nel caso invece di IOKIS in realtà sfruttiamo dei relai quindi dei contatti privi di potenziale o con potenziale e quindi l'integrazione con sistemi di terze parti o fuori della dell'ocosistema IOKIS è totalmente libero. Limiti impiantistici normalmente anche qua per la domotica tradizionale dobbiamo tenere conto molto spesso di cosa della lunghezza delle tratte e dei dispositivi collegabili quindi dispositivi scusate collegabili quindi normalmente c'è un numero massimo quindi nel momento in cui andiamo a progettare un impianto questo diventa un particolare importante. Per quanto riguarda IOKIS invece limiti impiantistici nessuno nel senso che non essendo vincolati da distanze particolari o da numero di dispositivi alla fine ci permette di agire sia in impianti nuovi ma soprattutto nel rifacimento di impianti di agli sistemi. Come si programmano i moduli IOKIS? I moduli IOKIS come dicevo prima possono essere programmati o direttamente da un pulsante locale collegato al modulino attraverso numero di pressioni oppure in maniera molto più semplice e veloce grazie a una chiavetta radio chiamata IOKIS è un app installatore IOKIS PRO per il professionista ribadisco gratuita quindi liberamente scaricabile che dal Play Store è possibile a questo punto che cosa grazie all'abbinamento di questi due di questi due oggetti di questi mezzi è possibile creare un progetto come viene messo qua su tablet acquisire automaticamente i moduli quindi senza fare operazioni manuali programmarli liberamente perché ricordo sono intelligenti creiamo un bass radio che permette ai vari moduli di di lavorare tra di loro con la funzione di repeater quindi ogni modulo funge da ripetitore per quello successivo fino a realizzare delle soluzioni smart anche particolarmente complesse con centralizzazioni in maniera molto semplice questo per un controllo diciamo da locale quindi all'interno della propria abitazione come possiamo realizzare invece un impianto connesso quindi liberamente gestibile da smartphone attraverso quel dispositivo che avevo accennato prima attraverso IOKISAB quello che vedete qua sulla sinistra è un'interfaccia radio ethernet quindi portate corredate di porta RG45 che permette che cosa la comunicazione tra i moduli radio IOKIS e il mondo internet permette quindi all'utente finale di gestire la propria abitazione scaricandosi che cosa la nostra applicazione all'utente finale chiamata IOKISINO è una applicazione disponibile sia nel pressore android che nel market di IOS grazie all'abbinamento di IOKISAB e dell'applicazione il nostro utente in gratuita potrà gestire il proprio impianto da rimasto perfetto a questo punto entriamo magari nel vivo con un forzo alla termoregolazione sì Mirko dimmi allora visto che adesso prima di entrare appunto nella sezione della termoregolazione io direi di lanciare il secondo sondaggio ok allora appunto a questo qua così di quello che stiamo parlando adesso appunto lo IOKISAB è sempre necessario all'interno appunto di un impianto IOKIS trovate le quattro soluzioni sì no oppure sì se voglio utilizzare telecomandi e centralizzazioni oppure sì se voglio utilizzare l'APINO o creare scenari domotici quindi adesso andate pure a selezionare la risposta ricordo che appunto come ha detto ha detto Giorgio l'APINO e anche l'AP PRO per quanto riguarda la programmazione sono entrambe applicazioni gratuite quindi volendo con un tablet Android per quanto riguarda la programmazione insieme alla chiavetta posso andare appunto a fare la programmazione del mio impianto e poi portarla direttamente sul l'APINO del cliente finale vediamo adesso se hanno risposto quindi le risposte sono sì no oppure sì se voglio utilizzare telecomandi e centralizzazioni oppure utilizzare PINO e creare scenari domotici direi che hanno risposto tutti molto bene quindi qualcuno ha ancora qualche dubbio adesso lo toglieremo però la risposta corretta appunto è sì se voglio utilizzare l'APINO e creare scenari domotici anche del resto diciamo che l'AP funziona funge da vigile del sistema ecco ti ridò la parola Giorgio perfetto grazie Mirko così puoi andare sulla termoregolazione perfetto perfetto quindi diciamo abbiamo inserito questo sondaggio giusto per testare un attimino anche la conoscenza le modalità di utilizzo del lab quindi abbiamo messo volutamente due risposte che potrebbero essere una più corretta meno corretta quella corretta come ha detto Mirko e utilizzo l'AP nel caso in cui io voglio dare al mio cliente la possibilità di gestire l'impianto da remoto ma anche se voglio dare la possibilità di gestire quegli scenari domotici non è strettamente indispensabile quindi anche chi ha risposto no non ha sbagliato perché se il nostro utente finale non ci richiede il controllo da remoto non è necessario l'utilizzo del lab perfetto entriamo un attimino per quanto riguarda il focus di questa sera che è la termoregolazione IOKIS quando si parla di termoregolazione IOKIS si parla del nuovo cronotermostato radio il Termarp quello che potete vedere nella slide sulla sinistra è un dispositivo estremamente compatto smart dotato di un display da 5.2 pollici retroilluminato a luce bianca quindi come vedete anche un contrasto molto netto che permette di leggere in maniera ottimale i dati riportati è un oggetto alimentato a batterie quindi assolutamente non è necessario portare fili quindi è un oggetto che possiamo posizionare dove realmente ci interessa rilevare la temperatura quindi non siamo vincolati a dove abbiamo il cavo di alimentazione l'installazione può avvenire direttamente ad appoggio parete quindi senza scassi nel muro quindi lo posizioniamo in qualunque superficie dove possiamo posizionarlo grazie alla sua staffettina di fissaggio è dotato di un relais con contatto pulito fino a 250 volt e 5 ampere quindi può gestire direttamente lui una caldaia tradizionale è dotato quindi può essere connesso in quanto è integrato all'interno di un telecomando di un modulo radio che funziona a 2,4 GHz come tutti i moduli radio YOKIS grazie a questa applicazione e alla connessione è possibile a questo punto gestire il crono termotato non soltanto il locale attraverso lo schermo touch ok ma anche attraverso l'applicazione YOKISINO dove ci permette come vedete dalla pagina home del crono termotato di visualizzare le principali informazioni come dicevo la retroilluminazione e i digit molto chiari ed essenziali permettono quindi una rapida lettura delle informazioni quindi ci fornisce le informazioni più importanti quindi giorno della settimana ok la temperatura ambiente presente in quel momento l'ora ok l'indicatore di stato quindi mi dice in che modalità sta funzionando il crono termotato mi visualizza immediatamente la programmazione giornaliera quindi il funzionamento che sta avendo il crono termotato durante queste 24 ore dopodiché nella parte inferiore grazie a quattro pulsanti touch possiamo andare a visualizzare ulteriori dati consumo, variare il funzionamento e quant'altro quindi è un dispositivo veramente semplice da utilizzare e semplicissimo da consultare anche l'installazione è veramente semplice in quattro semplici passaggi riusciamo a utilizzare quindi fissare il nostro crono termotato laddove vogliamo grazie alla staffettina possiamo posizionare il nostro crono termotato normalmente a un metro e mezzo quindi lì giusto compromesso per la rilevazione della temperatura inseriamo le due batterie da 1,5 volt agganciamo il dispositivo dopodiché assolutamente nel momento in cui ci appare le prime informazioni sul display lo agganciamo direttamente alla staffa quindi quattro passi veloci mettiamo in funzione il nostro crono termotato a questo punto cosa cosa possiamo fare con questo crono termotato possiamo fare tutta una serie di utilizzi quindi lo possiamo utilizzare in modalità stand alone connesso o quant'altro adesso vediamo un attimino nel dettaglio una veloce insomma carrellata delle principali applicazioni dei principali casi d'uso del nostro crono termotato può essere utilizzato ad esempio in modalità stand alone avendo un relè a bordo possiamo utilizzarlo quindi non integrato in gli occhi a questo punto totalmente in modalità autonoma e sfruttare il contatto in chiusura per pilotare direttamente la nostra caldaia come vi dicevo però a questo punto decade magari viene meno una particolarità che è quella di dover portare comunque due fili dal crono termotato alla caldaia come possiamo avviare a questo inconveniente tra virgolette o questa problematica con un collegamento radio il crono termotato ha tutti gli effetti e un telecomando di conseguenza possiamo associarlo a un modulo relè un classico MTF 2000 e sfruttare a questo punto non il contatto interno ma attraverso un comando radio andiamo a pilotare il nostro relè che a questo punto sarà lui con un comando in tensione andare a alimentare la caldaia questo relè sarà pilotato direttamente attivato e disattivato in base alle impostazioni che noi abbiamo associato quindi come vedete la differenza tra un caso e l'altro dove portiamo due fili siamo totalmente liberi invece nella parte di destra di un collemento radio di posizionare il crono termotato dove effettivamente ci interessa per una rilevazione ottimale della temperatura il crono termotato come diciamo prima può anche essere usato connesso come effettuiamo la connessione quindi come rendiamo il nostro termotato ancora più smart grazie a un dispositivo che è lo Yoki Sub quello che vediamo in basso e a questo punto come avviene il funzionamento del crono termotato dialoga con il nostro Yoki Sub il quale essendo connesso a internet ci permette di utilizzare la nostra applicazione per fare le variazioni di temperatura quindi non solo quando siamo in casa quindi dal display touch del crono termotato ma anche quando siamo da remoto magari stiamo arrivando a casa noi siamo in ufficio e vogliamo attivare la caldaia tutto questo oltre tutto utilizzando un relè esterno, remoto privo di collegamenti se non l'alimentazione stessa vediamo altri casi d'uso magari più particolari i due che abbiamo visto prima erano relè e crono utilizzati nel monozona quindi in realtà il termarp è un crono termotato di zona qua vediamo una classica abitazione magari suddivisa o in tre zone o tre piani dove in ogni piano abbiamo la necessità che cosa? di rilevare la temperatura in base alla temperatura gestirla singolarmente grazie all'elettrovalvola di zona e alla caldaia come realizziamo questo? all'elettrovalvola di zona colleghiamo un nostro relè magari l'impianto è già esistente tant'è vero che qua facciamo vedere un esempio dove ogni elettrovalvola di zona è collegato in modalità filare con la caldaia quindi ognuna di esse andrà ad accendere la caldaia grazie all'inserimento di un termarp con il relativo relè battezzato caldaia possiamo effettuare il comando di zona un qualunque di questi cronotermostati perché magari rileva una temperatura più bassa di quello che dovrebbe attiva l'elettrovalvola di zona il quale da un comando al caldaia si accende a questo punto noi possiamo gestire in maniera totalmente autonoma le tre zone quindi non siamo obbligati ad accenderle tutte e tre uno qualunque quindi in modalità OR uno qualunque o questo o questo o questo accenderà la caldaia questa logica OR viene data direttamente che cosa? dalla caldaia e dal collegamento filare quindi in questo caso non è necessario l'utilizzo di lab di gestione ok perfetto altro caso facciamo un altro esempio sempre di impianto realizzato multizona esempio di prima a questo punto magari è un impianto che stiamo realizzando ex novo andiamo a posizionare anche delle elettrovalvole di zona a questo punto non vogliamo o non possiamo passare cavi filari per l'accensione della caldaia come realizziamo un sistema connesso avremo a questo punto andiamo a posizionare un elettrovalvole di zona quindi il nostro relè che andrà a pilotare l'elettrovalvola cronotermostato per ogni zona quindi zona 3, 1 e 1 zona 2 e zona 1 in questo caso avremo che il cronotermostato ok andrà ad azionare il nostro relè che farà partire l'elettrovalvole di zona in questo caso manca il collegamento filare cosa facciamo? aggiungiamo un relè radio in questo caso avremo il funzionamento che contemporaneamente il nostro cronotermostato andrà ad accendere il proprio relè di zona più il relè dedicato alla caldaia quindi uno qualunque di questi relè andrà ad accendere il nostro dispositivo di caldaia chi è che realizza questa logica OR? quindi uno qualunque in questo caso non essendici un collegamento filare ma essendo tutto quanto radio remotizziamo abbiamo la necessità quindi di utilizzare lo Yoki Sub quindi tutto questo l'aggiunta di Yoki Sub evitiamo magari di fare traccia nel muro e quindi o per emurare in basile insomma abbastanza semplice l'utilizzo vediamo un attimino cosa ci permette per configurarlo sì dimmi Mirko ti voglio chiedere una cosa che mi è venuta in mente adesso ma io con il Thermal posso anche utilizzarlo all'interno di uno scenario per dire sto arrivando a casa ho tutto quanto voglio alzare le tapparelle voglio mettere la temperatura a 22 posso farlo? c'è la possibilità di integrare quindi la temperatura all'interno di uno scenario? si può? non si può? assolutamente sì ok questa è una domanda che effettivamente ci fanno in molti essendo ormai essendo abituati a gestire degli scenari quindi rientro da casa chiamiamo magari un scenario relax arrivo a casa voglio che contemporaneamente si abbassino tutte le tapparelle si accenda magari la piantana e ok questa è la relax abbiamo integrato a questo punto anche il crono termostato quindi nello scenario relax possiamo anche fare in modo che quando io lo lancio il crono termostato si posiziona alla temperatura che io voglio in maniera totalmente automatica quindi anche il crono è automaticamente integrato negli scenari bene bene grazie prego grazie per la domanda ok vediamo un attimino la configurazione anche a questo punto essendo un oggetto molto semplice da utilizzare è molto semplice anche da programmare come avviene questa diciamo associazione questa programmazione allora innanzitutto partiamo sempre dal presupposto che per la programmazione di un termarp ok integrato nell'ecosistema gli occhi andremo a utilizzare il tablet con la chiavecchina associamo a questo punto che cosa facciamo un classico esempio del termarp che deve andare a pilotare un relais di zona che potrebbe essere un relais caldaia o un relais di zona effettuiamo praticamente l'associazione ok da tra il termarp e il nostro relais in base al tipo di impianto il relais ok che possono essere 1, 2, 3 tante quanti sono le zone andremo a specializzarlo come? semplicemente dandogli una specializzazione che potrebbe essere un relais dedicato all'attivazione della caldaia oppure un relais dedicato all'ettrovalore di zona oppure relais anche di pompa di circolazione perché voglio abbinare riscaldamente con la circolazione nel momento in cui io specializzo il relais non è più necessario effettuare alcun tipo di programmazione su relais stesso quindi non c'è più bisogno di tempo di dati, impulsivo e quant'altro lui sa che quando viene associato alla termoregolazione il funzionamento è quello quindi segue i comandi forniti dal cronotermofago una volta specializzato il modulo relais ok viene anche inserito all'interno dell'abitazione quindi magari avevamo già realizzato in precedenza un impianto smart con i moduli office dedicato a luce e tapparelle andiamo a questo punto ad aggiungere il nostro modulo relais creando un bass radio se un impianto ex novo dove abbiamo cablato tutto in questo preciso istante con la procedura automatica di creazione del bass uniamo come indicato dello schema tutti i vari moduli con un bass radio ricordo che in campo aperto la distanza pro modulo e l'altro arriviamo fino a 250 metri convulsione di repeater quindi anche distante maggiori non è un problema in quanto basta posizionare un relay intermedio per rilanciare il segnale fino a quello successivo nel caso l'impianto esistente a questo punto non è più necessario di fare la procedura automatica è sufficiente aggiungere quindi l'ultimo modulo e collegarlo in modalità manuale all'impianto esistente quindi senza perdere tempo come si configura? come si va a definire la modalità di funzione intermarp? ok attraverso l'applicazione Yoki's Pro ok quando noi creiamo un impianto andiamo a dargli un nome a questo punto sono i tre passi di creazione e di programmazione del nostro impianto il posizionamento quindi il disegno dei modi all'interno di la piantina e poi la definizione dei punti di comando il nostro crono termoto e termart in realtà è un punto di comando andiamo a selezionare punti di comando si apre la seconda paginata dove mi permette di scegliere da i semplici telecomandi che possono essere quelli portateli quelli a muri quelli da incasso oppure quelli integrati tipo miro di modo all'interno del videocitofono oppure andiamo a selezionare che cosa? un nuovo punto di comando e andiamo a selezionare il termart il nostro crono termostato ok quindi automaticamente al di là del nome viene visualizzato anche con l'icona grafica andiamo a selezionare il nostro crono termostato e a questo punto che cosa andiamo a fare? andiamo a definire il funzionamento il nome del termostato stesso andiamo a dare un nome in questo caso io ho messo direttamente il nome del prodotto Termarp andiamo a indicare la zona di competenza quindi mi raccomando questo è sempre obbligatorio anche se utilizziamo un crono e un relay dobbiamo sempre dire che quello è un relay di zona che poi sarà la zona globale ma un relay di zona dopodiché andiamo a definire che cosa? le attuazioni le soglie di temperatura con cui deve funzionare e poi a questo punto inserire magari la programmazione settimanale per i funzionamenti in automatico nel caso di utilizzo di un relay remoto quindi non portiamo fisicamente i due fili al relay interno del crono termostato andiamo anche a dirgli qual è il relay che sarà pilotato il nostro crono termostato quindi lo andiamo a battezzare lo selezioniamo e andiamo a conferma in questa maniera dall'applicazione abbiamo detto alla nostra applicazione che questo crono termostato funziona con quel relay possiamo ancora andare a impostare una serie di parametri fra cui la soglia di temperatura dove abbiamo la possibilità di impostare tre soli di temperatura per la modalità di funzionamento ivernale e due soli di temperatura distinte univoche per il funzionamento estivo grazie alla scelta sì dimmi pure scusami ti chiedo una cosa tutti questi parametri qua va bene la temperatura alzare e abbassare però anche quello che si è venuto a vedere adesso quindi la programmazione e anche le soglie minime massime quelle medie quelle delle tre temperature posso anche modificarle tramite l'app Inno oppure serve esclusivamente la Pro quindi anche il cliente finale volendo può modificare questa cosa no assolutamente è un dispositivo quindi se il nostro crono termostato l'abbiamo inserito in sistema connesso con un hub anche l'utente finale attraverso l'applicazione Inno può andare a personalizzarlo anche perché normalmente l'installatore magari utilizza una programmazione settimanale preimpostata l'utente finale si accorge che le temperature magari ottimali per il suo caso sono differenti può andarlo a personalizzare direttamente quindi senza chiamare a questo punto l'installatore libero di regolarsi proprio in pianto liberamente senza problemi assolutamente sì per queste regolazioni diamo all'utente finale all'utente finale di possibilità di regolarsi tutto quanto una volta inserite tutte queste programmazioni all'interno del nostro applicazione App Pro come un qualunque tipo di telecomando dell'ecosistema IOKIS premendo due volte il pulsante set come se fosse due volte un pulsante di telecomando andiamo a trasferire la programmazione dal tablet direttamente al crono termostato e di conseguenza andiamo a associare se previsto anche un crono termostato al suo relè caldaia in maniera totalmente veloce pochi veloce scusate pochi step riusciamo a fare tutto come dicevo giustamente come anche tu Mirko mi hai chiesto possiamo anche poi personalizzare le programmazioni direttamente dall'applicazione utente finale quindi l'applicazione INO questa applicazione come ed è molto semplice ti lascio dai ti rubo un attimo la parola così almeno che si ascolta cambiamo un attimo la voce dai ti lascio riposare mettiamola così no allora un po' un attimo un riepilogo appunto sulla gestione remota di questo tema allora la grafica appunto è una grafica insomma semplice e decisamente intuitiva dove la cosa bella è che posso andare a fare una condivisione poi ovviamente Giorgio dimmi se sbaglio posso andare a fare una condivisione quindi anche una sorta di mi viene l'esempio del bed and breakfast o la tutta camere dove per dire quella determinata persona viene in quella determinata camera gli posso dare un gli posso fare come utente e lui può andare a modificare solo esclusivamente quel la temperatura di quel cronotermostro giusto Giorgio? perfetto corretto assolutamente stessa cosa posso farlo anche se ho il cronotermostro appunto in ufficio o nella mia abitazione la casa al mare o la casa in montagna posso farlo quindi su diversi dispositivi assolutamente l'altra cosa carina è personalizzabile quindi posso andare a mettere l'immagine quindi anche questa cosa ricordo che si può fare anche per quanto riguarda gli MWR quindi che sono i relais per diciamo per le tapparelle quindi posso andare proprio a fare la foto di quella tapparella di quella determinata camera e me la troverò sulla sull'applicazione altra cosa come appunto si vede nell'immagine in basso ci sono già dei programmi ovviamente preimpostati che io posso posso decidere se lasciare quelli oppure andare a modificare senza andare a ingegnarmi a farne uno da zero quindi andare a modificarne i vari parametri che ci sono di quelli preimpostati l'altra cosa che secondo me è veramente molto molto carina è appunto il controllo dei consumi quindi io con quel simbolino che ho in alto a destra nell'applicazione posso andare veramente a controllare una consultazione appunto dello storico dei miei consumi energetici quindi posso fare vedere un report giornaliero mensile annuale per farmi un'idea del mio consumo magari di quella determinata stanza di quell'orario di quelle temperature dire sì la basso non la alzo mi va bene oppure no magari lì ci sono meno posso tenerla un po' un po' più basso tutto corretto quello che ho detto più o meno perfetto perfetto assolutamente sì tutto corretto ti ripasto la parola grazie Mirko assolutamente quindi dopo che Mirko giustamente ci ha illustrato le principali caratteristiche dell'app vediamo un attimino come utilizzarla quindi come sfruttare meglio le caratteristiche quindi anche da utente finale per ottenere ottenere non solo quindi un comfort a livello di temperatura ma anche un risparmio in termini di soldini dato il periodo comunque non è male normalmente quindi una volta che magari l'installatore ha effettuato quindi voi l'installatore magari avete effettuato la programmazione l'utente finale si trova tutte le programmazioni comode già preimpostate ma lui liberamente può anche giustamente switchare di funzionamento quindi cambiarne e personalizzarlo come fa ad esempio impostare un funzionamento manuale è sufficiente in basso a destra toccando sull'icona auto automaticamente ci appara l'icona manina e anche il funzionamento passa da automatico a manuale a questo punto il nostro utente finale attraverso i tastini più o meno può andare a regolarsi in modalità manuale la temperatura della propria stanza o della propria abitazione in base a quello che vuole ottenere ma può anche fare un'altra cosa immaginiamo una seconda casa quindi una casa in montagna dove magari ho anche la prima casa uno arriva inaspettatamente a casa al di fuori della propria schedulazione e prevede di fermarsi un determinato lasso di tempo è possibile anche impostare una modalità temporizzata cliccando sull'icona al centro e a questo punto mi appare una seconda schermata dove posso andare a riportare un parametro che indica il valore che può essere in giorni all'ora del funzionamento temporizzato facciamo un esempio della seconda casa decido di fare weekend sabato e domenica metto parametro due giorni quindi io per due giorni voglio che funzioni con la temperatura impostata vado via in fretta e furia per inizio a nevicare mi sono dimenticato di ritornare in modalità automatica automatica nell'applicazione lo fa perché è previsto da questo tipo di tempo di emozione quindi in maniera molto 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 semplice quindi ci aiuta quando magari la memoria o la fretta quotidiana non ci lo permette non ci assiste come diceva Mirko attraverso un iconcino in alto a destra ok possiamo accedere a una schermata a mio avviso a una sezione a due sezioni in realtà molto utili che sono quella dei grafici e dei contatori sono due sezioni che vanno a toccarci la parte economica a mio avviso quindi secondo me sono molto importanti nella parte grafici ok ci appare una schermata dove ci visualizza immediatamente la modalità di funzionamento in questo caso inverno quindi il scaldamento il giorno in cui siamo in quel momento mi fa vedere la temperatura minima e massima raggiunta in quella giornata lì mi fa vedere un grafico dell'andamento della temperatura nell'ultimo giorno quindi già riesco a fare delle considerazioni su come sta funzionando la caldaia mi dà anche un dettaglio della temperatura rilevata a determinato orario rispetto a quella impostata io controllando questi parametri posso andare a personalizzare l'utilizzo quindi magari vedo che in determinato orario la temperatura scende troppo quindi la caldaia dopo deve sforzare per riportarla su e quindi riesco a fare delle ottimizzazioni nella seconda nella seconda parte cliccando invece su contatori mi appare una sezione dove mi dà anche un'idea di utilizzo della mia caldaia del mio cronotermotato quindi mi dice in modalità invernale quindi quando ho utilizzo il cronotermotato per pilotare una caldaia quante sono le ore di funzionamento quante sono le ore di funzionamento in modalità estiva quale è stata la temperatura massima raggiunta ma anche la temperatura minima io posso resettare ogni singolo parametro perché magari voglio fare un controllo nell'arco di un determinato periodo oppure a questo punto con il resetto totale io a zero tutti quanti i contatori tutte queste informazioni sono molto utili che mi permettono quindi di ottimizzare il funzionamento una gestione ottimale e magari anche risparmiare qualche euro assolutamente vediamo un po' un attimino la programmazione dei parametri generali dalla schermata home premendo in alto a destra sull'iconcina dei tre pallini ci appare un menu andiamo a vedere le configurazioni a questo punto in questa pagina come avveniva dall'applicazione Yoxys Pro possiamo andare a settare le soli di temperatura che sono T3, T2, T1 per la modalità inverno due soli di temperatura per la modalità estate attivare o disattivare o variare che cosa la funzione antigelo quindi la temperatura minima di funzionamento se poi scende al di sotto di questa mi accende automaticamente la caldaia per evituare ad esempio il congelamento ma posso anche andare che cosa ad abilitare l'ingresso ausiliario questo ingresso ausiliario che è messo proprio dietro il nostro cronotermosto mi permette di collegare che cosa una sonda esterna filare quindi io magari sono obbligato come vincolato a posizionare il cronotermosto in una posizione ma collegando questa sonda che è lunga due metri posso andare a rilevare la temperatura messa in altro posto quindi ulteriore vantaggio ulteriore elasticità di utilizzo oltre alla configurazione posso anche programmarlo sempre accedendo dai tre pallini anziché cliccando su configurazione entro nella parte programmazione e vado a che cosa vado a visualizzare la programmazione settimanale ci sono come diceva delle schedulazioni come diceva Mirko giustamente delle schedulazioni preimpostate ma io posso andare a variare oltre alle soli temperatura anche gli intervalli in cui entrano in gioco queste soglie quindi posso andare a variare una schedulazione per non partire da zero oppure andare a creare un ex novo e andare a questo punto copiare quella programmazione per tutti i giorni che mi interessano in maniera assolutamente libera quindi come vedete anche noi utenti finali da questo punto di vista possiamo gestire il nostro impianto in totale autonomia ok entriamo un attimino anche in ulteriore novità del webinar di questa sera quindi le novità che IOKIS ci permette di integrare ci permette di integrare che cosa anche la video sorveglianza quindi ormai il fatto di avere un impianto smart l'esigente dei nostri clienti sono quelle di magari controllare da un'unica applicazione non solo le luci non solo le tapparelle abbiamo già inserito la termoregolazione ma perché avere un po' più di sicurezza per dire ok ho lasciato la luce accesa ma un momento fammi vedere se c'è il cane insomma delle casi di richieste che probabilmente ci arrivano tutti quanti giornalmente abbiamo all'interno chiaramente del nostro catalogo Urmet anche una gamma di telecamere chiamata smart è una gamma di telecamere IP ok con risoluzione 2 mega e funzionamento wifi quindi proprio il target telecamera utilizzabile all'interno di un'inibitazione dove in realtà uno dei diktak sicuramente è quello di non fare lavori di muratura magari posizionare un telecamere in una stanza sul balcone cercando di evitare le classiche tracce o canarine esterne grazie a questa gamma di telecamere ok opportunamente gestite da un'applicazione dedicata chiamata vstream possiamo andare a gestire direttamente le telecamere senza un video ristatore in quanto in più loro stesse hanno a bordo una plot sd che mi permette di inserire una scheda di memoria dopodiché loro è sufficiente portare l'alimentazione alla telecamera stessa e loro con il loro antennino o il dongo all'interno si collegano al router di casa una volta fatta questa associazione noi riusciamo ad integrare praticamente il nostro impianto oltretutto la vstream ok dopo vi faremo vedere come avviene l'associazione tra telecamera e applicazione richiede che cosa creazione di un account uno dei vantaggi grandi della vstream è che possiamo utilizzare per la creazione dell'account lo stesso che abbiamo creato utilizzato per Iokisino quindi un solo account che utilizzeremo sia per l'indominio impianto di bidonsomiglianza che per l'impianto di funzionalità smart le varie telecamere poi dopo ne vedremo alcune hanno alcune ottica vari focale manuale alcune vari focale automatica quindi permettendoci di rispondere alle principali richieste del nostro del nostro cliente come avviene normalmente l'associazione di una telecamera di questo della gamma smart all'applicazione ci scarichiamo l'applicazione gratuita ok chiamata vstream normalmente come tutte le applicazioni le app creiamo un account lo attiviamo dopodiché andiamo che cosa ad acquisire le telecamere con telecamere wifi quindi è sufficiente a questo punto rilevare con la funzione QR code reader della nostra applicazione andare a leggere il codice QR presente ogni telecamerina e la telecamera viene automaticamente accutita dall'applicazione dopodiché è sufficiente agganciarla al router di casa e noi della nostra applicazione vstream potremmo vedere tutte le telecamere che noi abbiamo collegato e posizionato all'interno dell'appartamento possiamo gestire quindi le notifiche possiamo controllare le registrazioni se abbiamo inserito una scheda di memoria possiamo variare la qualità delle immagini insomma gestire la nostra telecamera come se fosse un impianto di video sorveglianza altamente professionale come riusciamo a linkare a questo punto collegare l'app vstream integrale interno dell'applicazione Yoki Sino la vediamo adesso questa è la schermata diciamo home dell'applicazione Yoki Sino quindi abbiamo le classiche funzioni magari è un impianto che abbiamo già realizzato qualche mese fa al nostro cliente gli abbiamo dato dei punti luce ad esempio un dimmer gli abbiamo dato delle prese comandate gli abbiamo dato anche un termoconvettore per regolare la temperatura e a questo punto vogliamo anche dargli questi ulteriori features queste ulteriori caratteristiche in alto a sinistra dal tasto impostazioni cliccando accediamo a una barra ok dove è possibile personalizzare quindi fare delle impostazioni dell'altro impianto domotico cliccando sull'opzione in basso la mia installazione ok si aprirà la nuova schermata che ci permette che cosa aggiungere dei dispositivi il dispositivo scusami Giorgio si dimmi no appunto volevo solo ribadire la cosa comunque comoda di avere lo stesso account quindi stessa diciamo email lo stesso nome con la stessa password per quanto riguarda sia l'app Ino che l'app Vstream quindi per l'utente finale questa cosa secondo me risulta molto comoda mi ricordo una password mi ricordo un'email almeno sono tranquillo e sereno senza fare casini non mi ricordo la password di una non mi ricordo la password dell'altra questa secondo me è veramente una cosa comunque importante che abbiano lo stesso account su entrambe tutte e due diciamo le piattaforme corretto molto giusto assolutamente questo ci permette innanzitutto di avere meno password nome utenti da ricordare e otto tutto ci permette di collegare a questo punto l'applicazione Vstream quindi nel momento in cui andremo a cliccare aggiungi una telecamera o una cloud mi si apre la schermata che è la stessa di Vstream inseriamo le credenziali dell'account precedentemente creato premiamo il tasto login e automaticamente vedremo che le telecamere vengono integrate inserite all'interno dell'applicazione si abiliterà un menu chiamato le mie telecamere dove mostreremo tutte le telecamere che abbiamo inserito in applicazione Vstream il fatto di aver integrato con l'applicazione Vstream all'interno di Yoki Sino mi permette di fare una gestione smart e easy delle telecamere usufruendo delle principali caratteristiche quindi la possibilità di vedere il live quindi è successo qualcosa vado subito a controllare le telecamere posso andare a variare la risoluzione quindi in base alla zona da dove sto consultando ma posso le registrazioni magari d'allarme quindi è successo qualcosa fammi vedere ho trovato la voce accesa sono stato io no in realtà qualcuno è entrato in casa quindi l'app Yoki Sino mi permette di distribuire delle classiche dei fondamenti per controllare i propri impianti di casa in maniera molto semplice l'integrazione però non si ferma neanche qui tra virgolette scusa Giorgio sì vediamo un attimo se chi ci ascolta è stato è stato attento riguardo appunto questa questa integrazione con il mondo della videosorveglianza sull'app Yino direi di lanciare diciamo il terzo sondaggio appunto eccolo qua allora vi chiediamo quali telecamere di controllo posso integrare nell'applicazione Yino quindi quella dell'utente finale allora ci sono le tre risposte allora la prima qualsiasi telecamera IP oppure solo quelle HD con cavo quassiale oppure la gamma smart wifi ricordo che comunque l'applicazione Vstream o anche quella diciamo integrare con Lapino risulta veramente comoda e ribadisco il fatto di avere lo stesso account perché per me veramente c'è che al mondo d'oggi abbiamo milioni di password da ricordare almeno Urmet ci insomma ci rende la vita un po' più un po' più semplice mi ricordo le risposte quindi telecamere IP le telecamere HD che sono quelle col mondo del cavo quassiale oppure la terza è quella per le smart wifi vediamo insomma se abbiamo le risposte allora eccole qua bravissimi direi che siete tutti bene vi darei un bel lotto direi quindi avete tutte azzeccate la risposta tutte le telecamere smart wifi quindi direi di proseguire direi che sia stato molto bravo nella spiegazione bravo grazie un bel lotto anche a te perfetto andata bene andata bene anche questa sera ok l'integrazione praticamente non si ferma qui nel senso che a questo punto insomma l'affetito viene mangiando e a questo punto abbiamo anche integrato che cosa l'antintrusione breve accenno quindi sulla nostra centrale antintrusione probabilmente magari molti di voi avranno anche avuto modo di utilizzarla di montarla ai propri clienti stiamo parlando della Zeno è una centrale antintrusione wireless ok con doppio comunicatore 4G IP quindi c'è un doppio vettore che ci permette di poter utilizzare sia una sim 4G quindi per una comunicazione veloce dei dati oppure un vettore IP integrato in quanto ha una porta LAN e quindi magari in presenza di un segnale GSM abbastanza scarso scadente possiamo a questo punto collegare la nota centrale a un router esterno e quindi sfruttare a questo punto la connessione magari fissa di un router è una centrale che può essere gestita direttamente da un app mobile quindi per dispositivi sia Android che iOS chiamata MyZeno può essere programmata quindi novità della centrale 4G attraverso un pannello di controllo web multi browser quindi possiamo utilizzare più browser per la programmazione per la configurazione e per la programmazione locale da PC quindi dobbiamo essere in loco ma in più la novità c'è anche dove che è possibile utilizzare il portale web per gestire direttamente la propria centrale non solo da applicazione mobile ma da un PC quindi da una pagina magari un po' più grande è una centrale che permette di collegarci fino a 50 dispositivi configurabili quindi potrebbero essere dei sensori IR potrebbero essere contatti magnetici tutti quanti filari ok sono tutti sensori che lavorano ok o in modalità 866 megahertz oppure quelli dotati di fotocamera lavorano in 2,4 gigahertz hanno portata i sensori a 866 megahertz di 2 fino a 2 km in campo aperto la centrale ha una sirena integrata oltre a avere dei contatti posterioli per eventualmente avere una sirena esterna a filare e poi ha un menu semplice di programmazione che guida all'associazione della centrale all'applicazione altre caratteristiche come tutte centrali praticamente hanno la funzione di soccorso con viva voce quindi possibilità di includersi nella centrale per vedere se effettivamente è scattato l'allarme per un qualche motivo c'è qualcuno e poi le classiche funzioni di allarme con eccezione panico silenzioso che sonora è una centrale che comunque è adatta per piccoli esercizi commerciali o comunque case appartamenti indipendenti laddove effettivamente vogliamo accentrare una centrale wireless con sensori wireless quindi è il target l'ideale per integrarlo all'interno di un impianto smart e domotico come avviene praticamente l'integrazione o meglio l'utilizzo della centrale attraverso la tua applicazione scarichiamo l'applicazione gratuita a Maizeno creiamo un account e lo attiviamo dopodiché andiamo a inserire all'interno dell'applicazione che cosa il mac address ok che troviamo su un'etichettina adesiva a mostra inserita appicciccata sul lato destro della centrale andiamo a questo punto ad attivare facendo praticamente dialogare l'applicazione col cloud che andrà a collegare il nostro account con la centrale a questo punto il nostro utente finale potrà gestirsi il suo impianto direttamente d'applicazione avendo le funzioni principali e complete di una centrale antintrusione quindi la possibilità di attivare e disattivare in maniera totale l'impianto di parzializzarlo fino a tre zone non l'ho detto prima in ogni momento grazie a una grafica semplice ed esaustiva posso vedere lo stato della centrale lo stato di ogni singolo sensore andarlo a escluderlo quindi tutte le funzionalità di una centrale altamente evoluta come riusciamo a integrarla anche qui partiamo dalla schermata home della MyZero andiamo a cliccare sull'importazione in alto a sinistra si apre la nostra barra diciamo di programmazione andiamo a premere sempre qui in basso la mia installazione dove ci permette di aggiungere dispositivo dove abbiamo giunto prima la telecamera in basso abbiamo la possibilità di aggiungere una centrale antintrusione urmet cliccando mi si apre praticamente l'home page della centrale andiamo a inserire le credenziali della centrale accesso e a questo punto vediamo che la nota in centrale come per magia viene integrato nella home dell'applicazione Yoki Sino cosa possiamo fare cosa ci permette di fare la Yoki Sino con una centrale Zeno ci permette di attivare e disattivare totalmente l'impianto fare delle attivazioni parziali possiamo vedere cliccando all'interno della centrale oltre che vederlo dall'icone direttamente vedere cosa abbiamo attivato l'attivazione avviene con lo stesso codice che abbiamo utilizzato per l'app dedicata a MyZeno e in più possiamo anche ricevere le notifiche quindi legare la ricezione delle notifiche a qualsiasi evento di centrale solamente evento di allarme allarme alto quindi riusciamo ad usufruire delle principali caratteristiche di un sistema antintrusione direttamente nell'app unica che in questo caso è la nostra applicazione Yoki Sino quindi a questo punto la nostra appino diventa un'app dove ci permette veramente di avere il massimo comfort in unica app ci permette quindi riassumendo di gestire in maniera remota ok in tutale autonomia sia le telecamere di video soveglianza a questo punto tante quante l'app VStream ci permette di gestire una o più centralizzero perché ricordo come l'applicazione Yoki Sino è molto impianto possiamo anche gestire da questa applicazione più impianti possiamo gestire il riscaldamento quindi questa è la schermata dove possiamo vedere immediatamente se la caldaia è accesa o spenta la temperatura ripostata rilevata in maniera totalmente veloce possiamo gestire e continuare a gestire tutti i nostri singoli attuatori Yoki Sino tapparelli illuminazioni prese comandate con un'immediata visualizzazione dello stato icona chiara tapparella aperta se fosse un'icona scura la tapparella sarebbe chiusa oltre che visualizzare la percentuale di apertura chi visualizzerà anche gli scenari impostati se ce ne sono di scenari impostati a evento temporale quindi con una schedulazione ci dice quanto manca al prossimo evento del nostro scenario ci permette di gestire delle centralizzazioni quindi oltre a gestire singolarmente ogni singolo attuatore possiamo anche avere dei tasti centralizzati ad esempio esco di casa perfetto premo spengo tutte le luci e abbasso tutti i tapparelli oppure posso ad esempio comandare tutte le prende elettriche quindi controllo i carichi posso avere dei filtri nel senso che le mie stanze e anziché entrare su ogni singolo attuatore clicco su camera e mi fa vedere tutti gli attuatori luci trono e quant'altro presenti nella camera per gli scenari oltre ad avere la possibilità di legare gli scenari in maniera temporizzata abbiamo anche un tasto fisico quindi il tasto relax oltre magari attivarlo perché io tutte le sere sono un tipo metodico alle ore 20 arrivo a casa posso anche attivarlo manualmente se rientro prima quindi diciamo che ormai l'appino permette che cosa l'integrazione totale scusami Giorgio sì allora sì adesso andiamo a fare un po' un riepilogo di quello che può fare appunto l'appino del cliente finale quanto quello che può fare e l'integrazione totale di quello che può essere all'interno dell'applicazione appunto troviamo la sezione di comfort quindi dove io ho tutto il mondo per quanto riguarda le temporizzatori dimmer le tapparelle ok dove posso andare a come ha detto appunto Giorgio a fare degli scenari a dire determinati orari schedulazione giornaliera e tutto quanto e posso oltretutto anche comandarli tramite gli assistenti vocali altra cosa le novità che abbiamo visto adesso che vorrei appunto dire che sono già in funzione quindi cioè sono già attive ecco quindi se prendo la telecamera la montate e l'andate a programmare e l'andate a vedere è già attiva direttamente sull'applicazione quindi non è un work in progress ma è già funzionale appunto la tvcc può essere inserita quindi integrata con le telecamere smart come abbiamo chiesto prima nel sondaggio con le diverse diciamo tipi di telecamere ok ovviamente e l'altra cosa che abbiamo visto adesso è l'antintrusione l'antintrusione via radio con il sistema azeno ok dove dall'app io posso fare ovviamente le cose dall'app ino posso ovviamente fare le cose basilari ma essenziali quindi andare a attivare l'impianto andare a disattivare l'impianto o a parzializzare ovviamente se voglio escludere qualche sensore per qualsiasi motivo ovvio non lo posso fare sull'app ino ma lo devo fare sull'app myzeno ribadisco per quanto riguarda appunto nel mondo del comfort che è quella la cosa comoda gli assistenti vocali sono comodi perché appunto io posso andare a dire e google o anche appunto alexa appunto ok alexa posso andare a dire guarda mettimi la temperatura a 20 gradi oppure ok google accendimi luce cucina ok google abbassami tapparella camera bambini quindi posso andare a integrare oppure quando arrivo a casa con la spesa posso dire che entro in casa o che google accendimi luce ingresso quindi posso veramente integrare un po' un po' tutto in maniera veramente veramente copia e le ripeto le due novità quindi le due ultime integrazioni sia la parte di tvcc con le telecamere smart che la parte anti-intrusione con il sistema myzeno sono già funzionanti quindi scusami Giorgio se lo ribadisco ma è fatto bene è fatto bene dirlo perché molto spesso magari altri brand nei webinar rappresentano il futuro e dimenticandosi del presente quindi sono due funzioni che sono già attive funzionanti immediatamente non da domani ma da ieri assolutamente ok perfetto poi direi che a questo punto diamo anche un'anticipazione su quello che sarà l'imminente futuro quindi una novità che uscirà per il prossimo anno un modulo quindi per il controllo dei carichi quindi nell'ecosistema IOKIS ha completamento insomma ulteriore completamento di gamma uscirà una centralina ok che permetterà di effettuare il controllo il monteraggio dei consumi all'interno dell'abitazione e con la possibilità di scollegare eventuali carichi se si supera questo valore assegnato lo scollegamento dei carichi avverrà non casuale ma in base a che cosa delle priorità che noi avremmo associato quindi potremo associare ad ogni carico una priorità ci saranno fino a otto livelli di priorità in base a quali verranno sganciati man mano per raggiungere il limite che noi avevamo preimpostato l'attivazione e la disattivazione del carico verrà effettuata come? sempre attraverso un modulo RELAT quindi sarà un modulo MTR2000RP che effettuerà l'attivazione e la disattivazione del carico l'installazione quindi la programmazione avverrà attraverso l'applicazione del professionista IOKIS Pro quindi attraverso anche il tablet e poi invece la gestione il controllo da remoto potrà avvenire attraverso IOKISab e di conseguenza attraverso l'app da utenti finale IOKISIMO quindi come vedete anche il work in progress ci permetterà di vedere ulteriori novità per il prossimo 2021 direi che ok stiamo per arrivare verso la fine non so se dato l'alto numero di partecipanti siamo riusciti a rispondere a tutte le domande che ci sono arrivate se non lo faremo magari nei prossimi giorni c'è qualche domanda particolare che magari vogliamo allora allora vediamo la prima allora se utilizzo il cronotermostato in modalità stand alone devo associarli obbligatoriamente una zona? sì la risposta è sì quindi indipendentemente che io inserisca praticamente il cronotermostato all'interno di un impianto YOKIS o che lo utilizzo veramente come un cronotermostato normalissimo io gli vado sempre a associare una zona quindi di riferimento quindi è sì è obbligatorio inserirlo proprio per il funzionamento ottimale ok mentre ti faccio un'altra domanda allora qua se un cliente mi chiama perché non vuole vuole togliere lo scenario del diciamo del cronotermostato della temperatura del cronotermostato da appunto da quello scenario di quando arriva a casa ok l'installatore è di un'altra città ovviamente non è che può arrivare subito gli dice ma guarda dai toglimi direttamente il fallo tu direttamente ok con l'app pro quindi la domanda è tramite la YOKIS Pro ho sempre la possibilità di modificare le impostazioni di un impianto collino ok sì questa è una domanda che effettivamente ci viene chiesta spesso nel senso che dopo che l'installatore quindi ha effettuato le programmazioni ok passa virtualmente l'impianto quindi le chiavi di casa al prossimo al profitto il quale può personalizzare l'impianto può modificarlo ma potrebbe anche fare delle cose magari non propriamente corrette e magari chiede l'intervento di un installatore quindi la risposta è sì l'installatore può intervenire nuovamente sull'impianto semplicemente dopo che sta autorizzato l'utente finale nel senso che si vuole anche un attimino tra virgolette cautelare l'utente finale nel senso che l'installatore può andare sull'impianto può aprire la sua applicazione YOKIS Pro a patto che l'utente finale quindi il proprietario dell'impianto l'abbia autorizzato c'è proprio una sezione nell'applicato di vino il mazzo di chiavi diciamo la condivisione dove possiamo andare a condividere l'impianto quindi per manutenzione a questo caso l'installatore ma questa condivisione è una funzione più quindi mi aggancio alle domande che ci arrivano spesso ci permette magari anche di condividere fisicamente l'impianto con magari un visitatore quindi una funzione bnb o magari dei parenti che mi vengono a trovare io posso dare a un altro utentino la possibilità di gestire una parte dell'impianto in maniera insomma vita natura durante duratura oppure magari legato a un evento temporale mia suocera si fa una settimana magari anche meno speriamo e dopo una settimana un po' più abbassarsi o alzarsi la temperatura quindi sì possiamo fare un po' di tutto ti chiedo un'ultima cosa sì ti chiedo un'ultima cosa se un cliente avesse già comprato appunto il crono termostato ok nell'impianto quindi se voglio farlo diventare smart è obbligatorio anche l'MTR da mettere sulla caldaia o posso già mettere l'hub quindi fare la spesa dell'hub e io sono a posto quindi ho il crono termostato smart assolutamente io allora chiaramente per rendere un impianto quindi un crono smart diciamo connesso è obbligatorio praticamente un'hub quindi il dispositivo che ci permette di usufruire di tutte le potenzialità di un crono termostato è l'hub normalmente in modalità stand alone lui può pilotare direttamente un relay o direttamente la caldaia ma se vogliamo tra virgolette utilizzare tutto quanto da remoto andiamo a questo punto in inserire un hub quindi l'interfaccia radio ok 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 perfetto direi che stiamo praticamente arrivando alla conclusione ok prima di chiudere vi ricordo alcune alcune cose che vi potete ancora scaricare fino a quando il webinar è aperto la documentazione che abbiamo fornito che quindi serve la presentazione vi voglio ringraziare innanzitutto voi per la partecipazione e per il tempo che ci avete dedicato ringraziare Mirko anche lui per aver collaborato grazie a te grazie a te e ci auguriamo che prego sì scusami no visto quest'anno di veramente più che mai che è stato veramente un anno insomma complicato sotto decisamente tanti aspetti lavorativo salute ma molti aspetti è stato un anno complicato però veramente insomma fare auguri insomma di buone feste per quello che può essere buone feste insomma un felice Natale davvero quest'anno più che mai a tutti quelli insomma che ci stanno guardando ecco perfetto grazie mi associo agli auguri di Mirko anche perché questo è l'ultimo webinar di quest'anno in ogni caso vi rimando al webinar del 2021 spero che questo webinar vi sia stato utile e possa essere una fonte di idee di guadagno di business e anche per i prossimi webinar che verranno poi inseriti a calendario potrete partecipare o direttamente iscrivendovi dal nostro sito nell'angolo di formazione oppure riceverete l'invito attraverso via mail o i classici canali commerciali a questo punto vi ringrazio ancora per la partecipazione vi auguro buon anno e arrivederci a un prossimo webinar ciao grazie ciao ciao